Allora deve essere parallelo al muro del castello dietro. I suoi gendarmi, Eldron e Aminada, o i consiglieri militari, che hanno scegliato di indagare tra la gente sul conto di Maggi e avevano avuto un colloquio con loro, si presentano al re e riferiscono ciò che hanno visto e udito. Salvi, ossire! Salve! Io ti salvi e con il tuo popolo. Sono stati i nostri peccati a far sì che il Dio del nostro popolo non mandasse anche a noi un segno dal cielo. Salve! 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 Salve!